Musica Bentrovati alla seconda edizione del TG6 In Abruzzo quest'anno, oltre alla tradizionale mimosa, il simbolo della festa della donna è la presentosa 3D un gioiello in plastica realizzato dall'artista terramano Isidoro Vagnozzi L'oggetto ieri è stato donato alle detenute del carcere femminile di Chieti un'occasione per riflettere sul significato della festa della donna Ascoltiamo riguardo la presidente della commissione pari opportunità della regione Abruzzo, Gemma Andreini L'8 marzo è una giornata importante per tanti aspetti ma soprattutto perché tutti quanti finalmente prendono coscienza di quali sono le problematiche che affliggono il mondo femminile e veramente sono tante Questa che diceva lei della presentosa è un'idea che nasce da Teramo ed è un'ottima idea perché è un gioiello simbolo dell'amore dell'uomo verso la donna e quindi vogliamo proprio che questo simbolo diventi un simbolo universale e che combatta la violenza, la violenza contro le donne che è sempre di più purtroppo è nelle cronache giornaliere quindi questo è un nuovo messaggio che è stato mandato attraverso questa simbologia importante Come non strumentalizzare questa giornata? Questo è un altro aspetto molto interessante Questa giornata viene chiamata la festa della donna ma se in realtà andiamo a vedere perché è stata fissata questa giornata ci troviamo davanti a delle donne che sono state vittime dei loro datori di lavoro perché sono state chiuse in una fabbrica e sono morte bruciate quindi la festa è in realtà in un certo senso una forzatura si ricorda la donna per le discriminazioni che lei subisce quindi chiamarla festa forse è un non senso io mi sto attivando per proporre che sia un'altra la vera festa della donna perché anche adesso con le nuove normative che prevedono anche maggiore diffusione delle normative che riguarderanno la possibilità per le donne di essere candidate e quindi di riuscire a ricoprire posti istituzionali importanti credo che forse la festa della donna dovrebbe essere quella nella quale la donna nel 1946 ha avuto il diritto di voto e questo forse potrebbe essere un messaggio positivo rispetto a questo che sicuramente raccoglie in sé tantissimi messaggi che non vanno assolutamente cancellati benissimo anche l'8 marzo ma vediamo di metterla in positivo 8 marzo quindi come momento di riflessione sul significato di una giornata dedicata alle donne e alle loro battaglie per i diritti a Pescara i giovani studenti delle scuole hanno presentato i lavori realizzati su questo tema Francesca Romana Testi L'8 marzo viene ricordato al comune di Pescara in questo caso ci sono delle scolaresche viene raccontato quello che è un progetto e soprattutto si vogliono sottolineare i valori che si legano dietro a questa ricorrenza Sì oggi un 8 marzo particolare qui in comune un 8 marzo in compagnia delle scuole di una serie di istituti scolastici che hanno partecipato ad un concorso indetto dalla commissione pari opportunità aventi ad oggetto la parità o meglio la disparità di genere con dei prodotti appunto artistici che qui presentiamo un'occasione anche per aprire le porte della sala comunale alla società, alle scuole e a fare una riflessione su una giornata che c'è ogni anno naturalmente ci sono anche gli altri 364 giorni dell'anno ma oggi insomma si riflette sulla condizione femminile che certamente ha fatto passi in avanti ma che ulteriori ne dovrà compiere lo facciamo in compagnia delle nuove generazioni nella sala consigliare insomma una mattinata spero fruttuosa anche per i nostri piccoli ospiti Ed ora la cronaca un 73enne di Colle Corvino Gaetano Palmucci è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in contrada Remartello di Loreto Aprutino l'uomo alla guida di un apecar secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada regionale 151 inutile l'intervento del 118 da Pescara si era alzato in volo anche l'elicottero ma è subito rientrato perché non c'era per l'uomo più nulla da fare e ora la cronaca giudiziaria parliamo dell'inchiesta Ato queste le richieste di condanna del pubblico ministero 6 anni per l'ex presidente dell'Ato Giorgio D'Ambrosio 5 anni per il professor Luigi Panzone 4 anni e 3 mesi per il dirigente Ato Nino Pagano 1 anno e 6 mesi ciascuno per l'ex sindaco di Montesilvano Pasquale Cordoma l'ex sindaco di Francavilla Roberto Angelucci e Gabriele Pasqualone ex componente CDA dell'Ato un anno per il dirigente Ato Alessandro Antonacci le richieste di condanna sono state avanzate oggi dal PM del Tribunale come detto di Pescara Barbara Del Bono nel corso della sua requisitoria nell'ambito del processo sul cosiddetto partito dell'acqua che si sarebbe creato in Abruzzo nell'ambito dell'Ato numero 4 pescarese i 11 imputati sono accusati a vario titolo di peculato corruzione, abuso d'ufficio, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, distruzione ai documenti truffa ai danni dello Stato e in violazione dell'articolo 97 della Costituzione le richieste di condanna riguardano solo alcuni capi di imputazione perché per altri reati il PM ha chiesto il non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione o l'assoluzione perché il fatto non sussiste l'Italia dei Valori ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa si chiede la possibilità di potenziare la possibilità appunto di autodifendersi ascoltiamo Il capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale Lucrezio Paolini ed il segretario regionale del partito Lelio De Santis hanno presentato all'emiciclo questa mattina la proposta di legge popolare sulla legittima difesa di iniziativa dell'Italia dei Valori Il testo del provvedimento è stato depositato in Cassazione ed ha l'obiettivo di punire più severamente la violazione del domicilio attraverso il raddoppio delle pene e potenziando le possibilità di legittima difesa La delinquenza va punita e va punita severamente l'Italia dei Valori con un progetto di legge di iniziativa popolare già depositata alla Corte di Cassazione il 17 febbraio ci deve essere un cambio di tendenza noi questo vogliamo perché sia garantito il diritto di tutti i cittadini a vivere serenamente all'interno delle proprie mura domestiche Chi sbaglia, chi delingue debba pagare seriamente e debba rimanere in carcere questo lo vogliamo fare aumentando le pene anche per evitare una specie di far west in cui ognuno cerca di fare giustizia da sé questo non è corretto, non è serio però nella stessa maniera bisogna rafforzare il presidio a tutela di cittadini e del territorio quindi non solo con un inasprimento delle pene ma anche rafforzando l'attività di vigilanza e di controllo con più poliziotti, più carabiniere, più vigili urbani a tutela del cittadino e a presidio del territorio Centinaia di piccoli artigiani rischiano il crack per lo più sub appaltatori impegnati nella ricostruzione post terremoto di L'Aquila Filippo Tronca ditte non pagate o pagate con ritardi insostenibili lavori ridotti a lumicino, fondi bloccati perché all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere il titolare Paolo Esposito non ha ancora il potere di firma tanti e drammatici problemi che attanagliano le piccole ditte sub appaltatrici quasi tutte aquilane impegnate nella ricostruzione post sisma che ieri hanno protestato in consiglio comunale all'Aquila chiedendo una svolta ed anche immediate modifiche al decreto antiterritoriale entrato in vigore ad agosto 2015 massima solidarietà esprime oggi il sindaco di Barisciano e coordinatore dei sindaci del cratere sismico Francesco Di Paolo la legge sulla ricostruzione concorda bisogno di modifiche e sub appaltatori vanno tutelati Di Paolo poi torna ad augurarsi che finalmente la Corte dei Conti metta il suo timbro sul decreto che prevede il rinnovo del contratto di Esposito riconfermato all'inizio gennaio senza quella vidimazione Esposito non ha il potere di firma e di conseguenza non è possibile sbloccare ad oggi 9 milioni di euro per pagare le ditte impegnate nei cantieri e dare il definitivo via libera a progetti di ricostruzione dal valore di 20 milioni di euro Guardi sono pienamente d'accordo che qualche regola della ricostruzione sicuramente va cambiata perché questa regola che prescrive che il 30% possa riferirsi soltanto alla categoria prevalente può creare dei grossi problemi alle ditte artigiane della nostra zona oltre al fatto che è previsto che anche per lavori sotto ai 150 milioni di euro è necessaria la SOA E poi c'è la questione ad esempio molto grave del fatto che queste ditte non vengono pagate perché poi la ditta appaltatrice porta le fatture degli stati di avanzamento lavori al Comune, all'ente che eroga il finanziamento con un'autocertificazione e poi non ha pagato i subappaltatori ecco questo deve cambiare Beh, l'autocertificazione comunque se è falsa è un reato penale che andrà perseguito secondo le leggi dello Stato Com'è la situazione della ricostruzione nei cantieri dei comuni? Guardi, è noto che abbiamo questa difficoltà per la nomina del dottor Paolo Esposito che speriamo che veramente nei prossimi giorni possa essere risolta Comunque come sindaci ci stiamo organizzando perché forse è il momento di fare uno documento forte per portare a termine l'idere amministrativo di questo documento A Pescara gli ex lavoratori interinali di Attiva proseguono la loro lotta per riottenere il posto di lavoro attendono ancora risposta all'interpellanza presentata al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti Ascoltiamo Va avanti il presidio dei lavoratori interinali Attiva rimasti senza occupazione Va avanti la richiesta di attenzione da parte delle istituzioni e del rispetto che meritano 69 padri di famiglia che hanno atteso per anni che quel contratto a tempo determinato diventasse finalmente una certezza indeterminata Noi per autofinanziarci stamattina abbiamo creato dei gruppi e ci siamo messi a vendere le mimose senza chiedere niente di che abbiamo chiesto l'offerta abbiamo riscontrato una buona partecipazione del cittadino dei cittadini e niente questo è solo perché questa baracca purtroppo c'è ai suoi costi e noi siamo rimasti tutti c'è chi è rimasto senza disoccupazione chi non c'ha più lo stipendio chi non c'ha più niente Qual è il punto della situazione? Voi avevate fatto diverse richieste voi avevate chiesto la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato è arrivato un no dalla Corte dei Conti adesso come si prosegue? Scherzare con 67 pari di famiglia che non sanno più dove sbattere la testa non è una minaccia parliamoci chiaro questa non è una minaccia non è un avvertimento è soltanto un dato di fatto scherzare con 67 pari di famiglia che non sanno più dove sbattere la testa comincia ad essere un pochino pericoloso perché loro giocano ancora sul fatto del tirocinio quindi non vorremmo che questo fosse un gioco per coprire tutta l'estate e poi alla fine di questo tirocino tutti a casa, tutti amici tutti felici e contenti questo non esiste Il 16 marzo ci sarà un incontro all'Aurum proprio per parlare di questa situazione? Sì, c'è una scolaresca di Montesilvano l'Istituto Tecnico Alessandrini che per un progetto di lavoro con il professor Baldassarre hanno voluto convocare questa assemblea questa riunione che si terrà il 16 all'Aurum saranno presenti loro ci sarà l'assessore di Iacomo e ci saremo noi una rappresentanza di noi e si parlerà proprio di questa questione di attiva e questo è un modo per ringraziare anche loro perché si sono interessati alla nostra vicenda Sulla riforma della sanità, perplessità e critiche sono state espresse da medici e sindacati Ascoltiamo La classe politica responsabile negli ultimi vent'anni dello sfacelo della sanità pubblica è entrata in gambatesa sulla nomina del direttore generale Rinaldo Tordera ha imposto senza averne titolo un manager bravo ma senza competenze in materia sanitaria fregandosene dell'elenco degli doni e attingendo addirittura dall'elenco della Lombardia arrivando anche ad offendere i medici aquilani bollandoli come una lobby Va giù duro, molto duro Alessandro Grimaldi segretario del sindacato dei medici a Nau dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila nel corso di una conferenza stampa convocata dai sindacati Cisle e Will con l'intento di fare un'operazione verità non solo sulla nomina di Tordera direttore generale dell'Asla Vezzano Sulmona l'Aquila ma anche sul piano di riordino della sanità imposto dal decreto Lorenzin che in Abruzzo già solleva allevate di scudi per i tanti tagli e accorpamenti previsti E proprio sul piano di riordino arriva la seconda bordata di Grimaldi I parlamentari abruzzese affermato conoscevano da più di un anno gli effetti della riforma sulla sanità abruzzese non possono ora cadere dalle nuvole urlare allo scandalo la battaglia la dovevano fare a tempo debito in Parlamento Il riferimento è anche la senatrice Stefania Pezzopane che ha tenuto poco giorni fa una conferenza stampa a difesa dei reparti che rischiano di chiudere del San Salvatore Tira infine alle somme Gianfranco Giorgi responsabile sanità della Cisle La riforma Lorenzina spiegato non può essere applicata in modo indolore ad una regione come l'Abruzzo che ha solo 1,3 milioni di abitanti distribuiti in un ampio territorio perché inevitabilmente si sguarniscono le aree interne e infine snocciola l'elenco delle priorità da affrontare al neo manager Tordera Noi chiederemo molto perché c'è molto da fare per esempio la pianta organica deve essere rivista il completamento dell'ospedale che ancora non bisogna ricostruire il delta medico bisogna fare in modo che scompaiono i container dall'interno dell'ospedale da Collemaggio quindi ci sono tante cose da fare bisogna fare in modo che non ci sia precarietà all'interno dell'Alz E sulla sanità Confindustria Pescara Chieti crea la sezione sanità una iniziativa volta ad avere un confronto continuo con le istituzioni per tutelare appunto i servizi ai cittadini Vediamo Efficientare il sistema sanità ma senza correre il rischio di perdere servizi per i cittadini una sorta di sorvegliante che si pone in maniera collaborativa nei confronti delle istituzioni così Confindustria Pescara Chieti presenta la neonata sezione sanità Oggi presentiamo un manifesto composto da diverse priorità Il fattore comune è sicuramente quello di chiedere alla regione alle varie istituzioni a tutti gli interlocutori istituzionali una maggiore partecipazione in quelle che sono le scelte in questo noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza l'esperienza di tutta la sezione possiamo contare in un know-how ampio perché racchiudiamo varie anime al nostro interno che vanno dalle case di cura private all'RSA ai fornitori di beni e servizi e quindi ci poniamo in maniera collaborativa per essere al fianco delle istituzioni nelle fasi decisionali e per offrire questa nostra competenza Se doveste individuare quelle che sono le lacune in questo momento quali potrebbero essere? Diciamo che una criticità che riscontriamo spesso è data dai tagli vorremmo che si passasse da un concetto ormai obsoleto per noi di taglio lineare a una razionalizzazione delle spese ovvero sicuramente risparmiare laddove ci sono degli sprechi ma anche saper valorizzare quelle che sono le eccellenze per far questo però bisogna passare attraverso un affrontare diversi problemi quindi andare un po' più a fondo nelle situazioni e in quest'ottica appunto cerchiamo di essere al fianco delle istituzioni Screening gratuiti alla Mammella a cura della ASL di Teramo oggi visite nel camper in piazza Pineto ribadita l'importanza della prevenzione Paolo Renzetti Si chiama Screening e salva la vita questo è lo slogan dell'ASL di Teramo per queste visite gratuite che si svolgono proprio in provincia oggi siamo a Pineto con il dottor Capone responsabile dello screening della Mammella dell'ospedale di Teramo dell'ASL di Teramo una campagna importante questa? Sì, è una campagna importantissima nell'ambito del programma di prevenzione della nostra ASL la prevenzione del cancro del seno è diventata un LEA un livello essenziale di assistenza e quindi noi come azienda siamo protesi a che questa cultura della prevenzione si diffonda in tutta la provincia la prevenzione è fondamentale per alcune malattie soprattutto per il tumore al seno dobbiamo semplicemente ricordare che è il tumore che maggiormente colpisce la popolazione femminile partecipare a un programma di prevenzione non solo facilita i percorsi diagnostici e terapeutici ma riduce la mortalità che nel caso della mammella è superiore al 20-25% di riduzione di mortalità nell'ambito del nostro programma di comunicazione abbiamo attivato un numero verde che è l'800 21 0002 che è la nostra centrale di ascolto ogni giorno tutte le donne che sono in età di screening cioè per la mammella da 50-69 anni possono telefonare a questo numero e dare le proprie generalità se hanno il dubbio di non essere nei nostri elenchi la signorina che vedete alle mie spalle fa proprio questo lavoro risponde al nostro help desk prende i dati delle signore le trasferisce alla segreteria e quindi ove la signora non fosse inserita nei nostri elenchi verrà inserita negli elenchi e quindi verrà chiamata per fare la mammografia oggi lo facciamo qui la signorina prende i nomi e le signore salgono su quel camper ed eseguono la mammografia che è il test per lo screening una clax action contro le bollette H per un servizio idrico non erogato in relazione all'inquinamento del fiume di Pescara a promuovere l'azione sono le associazioni Pescara.0 e Terra Nostra il servizio pagare un servizio che non viene erogato i cittadini chiedano la restituzione delle somme non dovute il caso è quello degli scarichi abusivi e dell'inquinamento del fiume e a proporre l'iniziativa sono due associazioni di Pescara l'azione risarcitoria dei cittadini nei confronti degli enti AC e Sasi che sostanzialmente hanno richiesto sulle bollette una quota per la depurazione che però non è stata mai effettuata e quindi noi abbiamo riscontrato abbiamo ritrovato una sentenza della Corte Costituzionale la 335 del 2008 che permette di chiedere proprio il rimborso di questo servizio non erogato in quanto proprio è stato sancito che la quota di depurazione non è un tributo ma un servizio che però non è stato erogato di noi adesso chiederemo all'AC di fornirci tutte le utenze che sono collegate a questi scarichi che vengono ritenuti abusivi ma probabilmente i cittadini gli utenti non sanno che non sono collegati al depuratore perché magari sono discariche sono tubature vecchie come è stato riscontrato e di conseguenza provvederemo con la mappatura delle utenze ad intraprendere la class action con i nostri avvocati per quanto riguarda il risarcimento anche per il malfunzionamento dei depuratori non soltanto per il mancato servizio Cosa dovranno fare i cittadini per poter partecipare a questa class action? I cittadini potranno rivolgersi tranquillamente ai rappresentanti delle associazioni che avete appena ascoltato dai quali abbiamo preso spunto rispetto alla documentazione relativa alle sentenze di Cassazione e della Corte Costituzionale che si sono già pronunciate sul punto probabilmente esistono gli estremi per una richiesta di risarcimento che coinvolgerà quei cittadini che dalla mappatura di cui parlava prima Monaco risulteranno essere coinvolti nella vicenda Prostituzione fuori controllo a Pescara la denuncia arriva dal consigliere comunale della lista Teodoro Massimiliano Pignoli che chiede l'intervento immediato del prefetto e del questore della città Prostituzioni sotto la luce del sole in orari pomeridiani sotto gli occhi di tutti la denuncia arriva da Massimiliano Pignoli che chiede un intervento immediato alle istituzioni di Pescara Perché abbiamo notato che da alcuni mesi la città è invasa dalle cosiddette lucciole è invasa anche il pomeriggio per cui ci troviamo a camminare noi cittadini pescaresi ad esempio in prossimità della stazione ferroviaria di Pescara sia su Piazza della Repubblica ma soprattutto anche su Via Enzo Ferrari e vedere queste prostitute che tranquillamente vendono il loro corpo questo non mi sembra una cosa giusta ovviamente questa cosa avviene anche in Via della Pineta dove i residenti sono ormai da anni che lottano per eliminare questo problema ma in realtà non si fa nulla per eliminarlo per cui questa mattina abbiamo voluto rimettere accendo dall'attenzione questo problema della sicurezza anche che i cittadini ci chiedono di porre rimedio per cui scriveremo nei prossimi giorni al prefetto e al questore affinché si intensifichi i controlli per eliminare questo problema Pescara certamente non può essere una città della prostituzione ed ora passiamo alla pagina sportiva il giudice sportivo di Serie B ha fermato per una giornata il difensore Zampano del Pescara un turno anche per Faraoni del Novara i due salteranno la partita tra Pescara e Novara di sabato prossimo una giornata anche a Zito della Salernitana che non sarà in campo nel match della Recchi di sabato contro la Virtus Lanciano e doppia seduta oggi per il Pescara probabile rientro sabato prossimo per il terzino Crescensi ci sono possibilità anche per Valerio Verre sarà quasi certamente ancora assente Campagnaro che potrebbe recuperare per la trasferta di Crotone oggi intanto il tecnico Oddo ha parlato in conferenza stampa di questa crisi di risultati della squadra ascoltiamolo diciamo che è una crisi di testa di testa in questo momento di testa mentale c'è bisogno di uno psicologo o di uno psichiatra sì sono io per forza e chi deve essere in questo momento bisogna tirar fuori tutte quelle sicurezze quelle certezze che abbiamo avuto fino a qualche periodo fa ritornare a fare le cose con la stessa convinzione con cui le abbiamo fatte fino a un po' di tempo fa e se torniamo a fare questo sicuramente torneremo a fare bene in questo momento è possibile che anche queste pressioni che si sono create sulla squadra hanno inciso l'essere di Barcellona no ma non quello l'essere in una determinata posizione di classifica fare la corsa sulle prime due sentirsi obbligati a vincere ogni domenica fa sì che a volte magari tu possa anche sbilanciarti un attimino ecco queste sono cose su cui bisogna lavorare un attimino sicuramente vanno presi degli accorgimenti ma sicuramente non va stravolto tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento perché quello che abbiamo fatto fino a questo punto è stata sempre la nostra forza e deve per forza di cose tornare ad essere la nostra forza io credo che questa squadra è ancora sicuramente capace di fare quello di buono che ha fatto fino a questo momento e lo dimostra anche il fatto che durante larghi tratti delle partite anche perse fino a questo momento lo abbiamo anche fatto Dede ha giocato con me un mio amico mi ha chiamato in zona e mi ha detto posso venire con voi e ho detto sì come no puoi venire viene sta qui tranquillo poi magari se si fanno male quattro centrali contemporaneamente l'abbiamo allenato intanto assolutamente poi io ho i centrali più forti che ci sono in circolazione quindi non devono temere nulla Campagnaro stiamo aspettando che ci dia l'ok lui è il miglior medico di se stesso quindi si sta allenando non con grande intensità qualche problemino ma i soliti ce li ha quindi vediamo un attimino ma forse per sabato è difficile ci auguriamo che per la prossima sia disponibile ripresa degli allenamenti oggi per la Virtus Lanciano nella singola seduta svoltasi al campo Memmo era assente King per una distorsione alla caviglia fermo in via precauzionale anche il portiere Cragno dopo lo scontro di gioco di sabato scorso contro il Brescia differenziato per Salviato domani doppia seduta scendiamo in Lega Pro rese note oggi le designazioni arbitrali Sant'Arcangelo L'Aquila sarà diretta da Ranaldi di Tivoli Teramo Carrarese da Sprezzola di Mestre il giudice sportivo ha fermato per una giornata i difensori Maccarone dell'Aquila e Caidi del Teramo il centrocampista Biancorosso Cruciani intanto garantisce massimo impegno della squadra pur sapendo che sarà difficile agganciare il treno playoff sentito da Andrea Costantini lo ascoltiamo il nostro compito il nostro dovere è quello di fare 9 partite 10 partite al massimo cercare di vincerle tutte poi quello che succede vediamo da stronti è quello che proviamo a fare tutte le domeniche poi ti può riuscire meglio ti può andare peggio però l'impegno penso che questa squadra non mi sia mai mancato io sono arrivato ripeto sono arrivato da poco però sentire a gente che critica anche ragazzi che l'anno scorso erano idoli potrebbero andare a fare stato e in questo momento criticarli mi sembra un po' sbagliato ecco ci sta ci sta che 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 dopo una brutta prestazione ci sta che dopo brutte per partite giustamente esponi i tuoi i tuoi pensieri però da qui a criticare un allenatore che comunque mi sembra che da quando allena ha sempre fatto bene quindi è una squadra che lo scorso anno ripeto ha fatto quello che ha fatto io penso che da come sono partite le cose inizio anno chiunque avrebbe pagato avrebbe messo la firma per arrivare come siamo adesso la carrerese purtroppo mi è capitato anche a me in passato di trovarmi in una situazione del genere e posso garantire che in quelle difficoltà ci si unisce c'è una squadra che si unisce sicuramente e non è mai facile incontrare squadre che hanno una rabbia che va al di là del calcio perché come in campo riporti tutto quello che sono i problemi della settimana quindi sicuramente incontreremo una squadra con quella mentalità però non c'è niente per nessuno che sia carrerese che sia Juventus che sia ripeto dobbiamo farla nostra in qualsiasi maniera che sia sia che siamo belli che sia che siamo brutti dobbiamo farla nostra Lasciamo il calcio inizia domani l'avventura dell'abruzzese Lorenzo Petrarca al moto mondiale M3 oggi il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale di Montorio Alvomano vediamo Lorenzo Petrarca alla vigilia della partenza per il Qatar per il moto mondiale oggi c'è questo importante avvenimento questo riconoscimento del comune di Montorio che fa sicuramente piacere Sì è un grande onore per me essere premiato dal comune di Montorio soprattutto in una giornata così importante prima della partenza per la prima gara quindi due grandi emozioni tutti e due nello stesso giorno domani finalmente partiamo per il Qatar dove svolgeremo gli ultimi tre giorni di test la settimana dopo il primo weekend di gara grande emozione tanta voglia di far bene di crescere pian piano gara dopo gara gli obiettivi sono tanti sarebbe già un grandissimo traguardo essere costantemente in zona punti in tutte le gare spero anche non manchino gare con migliori prestazioni posizioni più avanti nei gruppi di testa comunque si vedrà strada facendo è l'unico terramano che riesce ad arrivare al mondiale è il secondo abruzzese quindi ci sono tanti motivi di essere orgogliosi poi siamo contenti perché è la sua passione la sua vita e fa piacere che la presidenza comunale dia questo riconoscimento a Lorenzo senza dimenticare che già in passato la presidenza comunale ha riconosciuto a Lorenzo un premio perché in occasione di alcune sue vittorie riportate in ambito nazionale e internazionale anche la nuova amministrazione si sente di dover premiare Lorenzo Petrarca per i risultati ottenuti anche perché è un ragazzo che è stato scelto e chiamato dalla federazione a svolgere un campionato così importante che è un punto di lancio per Lorenzo ma è anche un punto di lancio per il comune di Montorri al Vomano che vedrà portato comunque nelle tappe internazionali che lui andrà a svolgere quindi è un orgoglio per l'amministrazione ma per la comunità montorriese tutta ed è tutto per questa seconda edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione buon proseguimento grazie per l'attenzione